L'arrivo è previsto per domani pomeriggio alle 15. Nel porto di Brindisi giungerà il mercantile norvegese Enterprise con 720 migranti e due salme a bordo, che attraccherà alla banchina di Santa Pollinare. Lo comunica il sindaco di Brindisi, Angela Carluccio. Domani a mezzogiorno si terrà un vertice in prefettura per il coordinamento delle operazioni di accoglienza e soccorso ai profughi ed anche di assistenza ai numerosi minori non accompagnati che si trovano a bordo della nave. Le operazioni di identificazione e le indagini saranno condotte dall'ufficio immigrazione della questura di Brindisi.